Benvenuti nel nostro appuntamento in cucina. Oggi incontriamo il dottor Senatro Fred, esperto in previdenza, e il colonnello Francesco Mi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ciao Daniele. Ecco, facciamo una precisione. Ci incontriamo a casa del dottor Senatro, non perché questi due giovincelli vivono insieme. Non siamo una strana coppia. Ma perché sono molto amici e siete da dieci anni nostri ospiti, in questo caso, nei nostri studi. Siamo due vecchie glorie di estensione TV, non due glorie vecchie. Ma lo sottolineiamo. Allora, iniziamo il nostro discorso parlando di ricette. Ovviamente poi intrecciamo il tutto con la vostra professione. Senatro, ci possiamo dare un po' del lei e un po' del tu? Funziona così oggi? Non c'è il tuo, non c'è il tuo. Funziona così a sentire troppo vecchio. Io dico di sì e poi vedrà che le darò del lei. Poi era della Magna Grecia, abbiamo il culto dell'ospitalità. Eh, lo so. Iniziamo col dire che cosa ha preparato oggi. Stasera, no, stiamo preparando in diretta un gatto ruspante, la pasta e fagioli. Cosa dobbiamo fare con la pasta e fagioli? Allora, ho messo a bollire l'acqua, sta bollendo, ho messo un pizzico di sale, ora metto la pasta. Allora, la buttiamo proprio in tempo reale. Quando è a metà cottura poi devo aggiungere il resto. Perfetto. Vediamo, lasciamo il mistero. Iniziamo, magari diamo una mescolata. Certamente. Perché se no si attacca tutto, è disastro. Vedo la buona casalinga. Benissimo, guardi, ha trovato la persona giusta. E poi andiamo avanti. E poi man mano andiamo avanti. Colonnello, invece il suo piatto del giorno qual è? E' un piatto, ritengo che non sia molto usuale da queste parti, ma è pepite di pollo con le mandorle. Benissimo, facciamo vedere gli ingredienti, quali sono? Ecco, gli ingredienti sono esattamente un petto di pollo. Un petto di pollo. Da tagliare a cubettini di tre centimetri circa. Con la cipolla. C'è la cipolla, d'accordo, ma la cipolla la facciamo soffriggere successivamente perché i pezzettini di pollo, le pepite, vanno prima di tutto infarinate. E poi vanno lasciate un pochettino a riposare. Poi si dovrebbe prendere una pentola, versiamo dentro circa un po' di olio, circa due o tre cucchiai di olio, e mettiamo le mandorle che precedentemente abbiamo sgusciate. Sì. Vedete, sono già sgusciate nell'acqua calda. Sì, mandorle. Ecco, e vanno fatte dorare, non abbrustolite. Non so se possiamo far vedere poi. Ecco. Il piatto comunque è questo, gli ingredienti sono questi. Benissimo, sono questi. Una volta imbrunite le... Ah, e il dado. Ecco, no, no, il dado si mette successivamente ad ogni modo, e anche la cipolla. Magari diciamo dopo come si prepara? Andiamo con ordine. Benissimo. Vediamo con ordine. E poi serve anche un altro particolare, possibilmente verde. Io l'ho portato in polvere perché purtroppo verde non ce l'ho, e lo zenzero. che dà proprio una sensazione, un sapore, un profumo particolare. Perfetto. Adesso il nostro discorso entra nei dettagli. Ovvero lei, colonnello, mi deve dire qualcosa sulle previsioni, però in questo caso legato al cibo. Che discorso mi può fare? Però prima di scoprire questo, ci dica un po' come è diventato colonnello. Beh, colonnello lo sono diventato... Vabbè, colonnello intanto è un grado. Come sono diventato tutta più meteorologo? Perché avevo da giovane, come molti giovani ritengo, la passione per il volo. Una passione che è arrivata guardando nella zona in cui vivevo in quel periodo, vicino alla scuola di volo basico iniziale di Evioggetti, che era una delle scuole più importanti in capo europeo. Vedevo questi aerei sorvolare sempre i nostri cieli e ho detto chissà se una volta ci riuscirò. E quindi mi sono arrolato in accademia per diventare pilota. E ho avuto il grande piacere di fare pilota per circa un anno e mezzo. L'ho fatto. Poi successivamente, come può succedere in tutte le buone famiglie, mi è andata male. Oh, mi dispiace. Mi è andata male. Un esame. Intanto Frezzo vediamo che sta mescolando. Passa ogni tanto. Vada, vada tranquillo. Mi è andato male un esame di pilotaggio e infatti ho fatto un piccolo errore che poi mi ha precluso la carriera da pilota e quindi ho optato per fare meteorologo. Quindi io non mi sarei mai sognato di fare meteorologo allora. Non ci pensavo proprio. Quindi in questo caso è stato il destino. È stato il destino. Rapporto cibo-tempo. Che cosa ci può dire? Ebbene, sinceramente ci sono molti, molti collegamenti tra il cibo. L'acqua vuole, ricordiamo. È tutto bene, Frezza? No, no, sto seguendo. Sto seguendo. Molti collegamenti. Molto semplicisticamente potrei dire questo, che durante l'estate sentiamo l'esigenza proprio di mangiare qualcosa di notevolmente più fresco, di più leggero, magari anche freddo e non tanto cotto, no? Di cibi leggero. Mentre durante l'inverno, per una questione appunto calorica, sentiamo la necessità di mangiare certi piatti che nella dieta mediterranea sono abbastanza diffusi. Invece stiamo perdendo il gusto di quei piatti particolari, per esempio un bel piatto di ceci, un bel piatto di fagioli, con magari piatti robusti, ecco, sostanziosi, accompagnati anche da un buon bicchiere di vino. È vero, come dicevamo Senato? Ma stasera ho messo un vino delle tue parti, con i bicchieri ad hoc. Cos'è un negramaro? Cos'è un negramaro? No, è della zona di Brindisi. Ah, di Brindisi, ho capito. Allora, a questo punto, colonnello Mì, io direi, iniziamo la sua preparazione ai fornelli, così intanto chiacchiero con Frezze, vediamo un po' cosa ci dice, in base sempre al discorso. Un attimo che giro la pasta. Tutto bene qua la pasta? E mi raccomando, deve... Sì, 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 cercherò di preparare, appunto, non di abbrusolire, di dorare inizialmente le mandorle. E soprattutto di non bruciarle. E soprattutto di non bruciarle né la cipolla e né, tantomeno... Spera, se no vediamo una fumata. No, d'accordo. Basta che non la veleniamo. Cercherò di essere prudente. Basta che non la veleniamo. Allora, Frezze, diciamo qualcosa dell'Inps, la situazione Inps, come sta andando? Ma all'Inps io ne parlo sempre bene, anche se c'è una vulgata che la gente ne parla male, perché la situazione è difficile nel paese, ma l'Inps è una struttura che fa concorrenza all'organizzazione delle aziende private. Quindi in questo senso l'Inps riesce a sopravvivere, anche perché abbiamo una serie di leggi che si accavallano in maniera tumultuosa. Faccio l'esempio della finanziaria, no? La finanziaria sarà votata prima di Natale. Tanto mescoliamo ogni tanto, perché mi sembra che si sta... Diceva la finanziaria è legata? Sarà votata nel 23-24 dicembre, ma entra in vigore già il primo gennaio. E c'è tutta una serie di norme che riguardano le pensioni. Quello sì, però dal suo punto di vista, visto che ha sempre a che fare con numeri, date, cifre, oggi come oggi, per un pensionato che percepisce la pensione minima, è veramente così difficile in questo caso fare la spesa, visto che stiamo parlando di cucina? Ma guarda, questo è vero. Cosa abbiamo avuto negli ultimi 15 anni? Abbiamo avuto un progressivo... del valore delle pensioni in termini reali. C'è stata anche una riduzione del valore delle retribuzioni dei lavoratori attivi, ma le pensioni di più. Perché nel 92, e già l'ho detto un sacco di volte, in questi dieci anni. In studio, e lo diciamo ancora questa volta in cucina. Nel 92, quando ci fu il governo amato, che l'Italia era ormai alla bancarotta, e fece una finanziaria terrificante per cercare di tornare a galla. Mescolatino ogni tanto, che qui bolle... Codonello, come sta andando qui la preparazione? Sta bene, sta andando. Aspettavo che finisse il... Non litigate, una volta per uno. Anche perché io sto preparando un secondo, mentre è necessario mangiare prima il primo. Ha ragione. Lo facciamo in diretta, quindi. Allora, nel 92 fu cambiato il sistema di adeguamento delle pensioni. Fu cambiato al ribasso. Nel senso che fu introdotta la cosiddetta per equazione automatica, che solo per un pezzetto fa aumentare le pensioni in base al costo della vita. Però l'accordo era che comunque le forze sociali e il governo, ogni paio d'anni, si vedevano. E in base all'aumento della ricchezza prodotta nel frattempo, il cosiddetto prodotto interno loro del PIL, un pezzetto di PIL andava ai pensionati, i quali non possono difendersi col contratto, non c'è più il contratto. Però dal 92 a oggi, nessuno dei governi ha mai applicato questa norma di legge. È una legge. Questo discorso è veramente molto interessante, ma una curiosità. Ma lei, come mai si è avvicinato a questo settore? Cioè, soprattutto, perché non ha fatto il cuoco? Noi terroni. Il cuoco, cioè, non mi piace cucinare. Cioè, a me piace mangiare. Quanto tempo ci vuole, senato, per la pasta? No, no, siamo... Va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ce la facciamo. Ce la facciamo. A me piace mangiare, anche se cerco di non mangiare, di sforzarmi di non mangiare. Ah, sì? Però, siccome sono stato sempre fuori di casa, quindi mi sono arrangiato. Cioè, fuori di casa non vuol dire che sua moglie l'ha sbattuta fuori di casa. No, fuori di casa, ai nostri tempi, per studiare, bisognava andare via. Quindi, io sono via da quando avevo dieci anni. Povera mia madre, che quando vive di io... Quindi, in qualche modo, si è dovuto arrangiare. Certo, quindi, ma poche robe, però. E quindi, come mai sei proprio interessato a questo settore? Mi stava dicendo? La cucina no. No, l'IMS. Qui sopra. L'IMS. Noi, noi meridionali, purtroppo, quando abbiamo finito di studiare, dobbiamo lavorare da qualche parte. Allora, il primo concorso che è passato... Non solo i meridionali, devo fare questo ragionamento. Ma, ai miei tempi, ai miei tempi. Qua, voi, insomma, andavate subito a lavorare, ma è cambiata la situazione. Ho cambiata la situazione. Il primo treno che è passato l'ho preso. L'ho preso. E' sovruta come? Allora, intanto, mo' devo fare una roba. Ma cosa deve fare adesso? Togliere l'acqua, quasi tutta. Sì. E poi mettere i fagioli. Allora, lei fa questa operazione. Con i fagioli. I fagioli sono questi. Sì. Fagioli, che tipo di fagioli ha usato? Borlotti normali. Borlotti normali. No, non sono normali, frezza. Che come sono? Non sono normali questi, i fagioli. E perché? Come sono? Questi sono quelli altri, sono quelli piccolini. Giusto, colonnello? Cannellini. Cannellini, ho detto borlotti. Cannellini. Cannellini. Visto? Quando una se ne intende. È il fuoco, frezza. Quindi se no, bruciamo tutto. Ecco, no, ho abbassato. Spento. No, ma l'hai spento. Ah, non dovevo spento? Dove. Qui funziona così oggi. Allora, a questo punto, la nostra ricetta, invece, colonnello. Allora, abbiamo infarinato i pezzi di pollo, come vediamo. Sì. Poi, abbiamo indorato le mandorle. Sì. La cipolla, sinceramente, non l'ho ancora fatta, ma la cipolla andava tagliata finemente. E quindi... E perché non l'ha tagliata? Non l'ho fatto perché purtroppo c'era poco spazio. Come c'era poco spazio? C'era tutto lo spazio che volevi. Lo fa dopo, però. Lo farò dopo. Questo è importante. Quindi, una volta soffrita la cipolla, toglierò dalla pentola la cipolla e metterò stavolta i petti di pollo già in panna. Praticamente, nella seconda versione, non è la seconda versione, nel nostro secondo appuntamento, dopo vedremo, giustamente, come si cucina. Come si cucina, esattamente. Metteremo il pollo. Quest'inverno. Che tempo farà? Oddio, qua si tratta di parlare non tanto di previsioni meteorologiche attendibili al 99-95% quanto di fare una previsione climatologica. Sarebbe fin troppo semplice da parte mia dire che l'inverno sarà abbastanza freddo, d'accordo, ma meno freddo rispetto agli anni precedenti. Già l'anno scorso è stato un inverno caldo. Ci saranno meno precipitazioni a carattere di continuità e le precipitazioni, sia nevose che a carattere di pioggia, saranno abbastanza ristrette. Mentre prima, durante il periodo invernale, pioveva per circa 20-25 giorni, adesso invece il periodo si ridurrà. Quindi le precipitazioni ci interesseranno per pochi giorni. Neve invece, colonnello? La neve la prevediamo, però la prevediamo più che altro sul settore nord-orientale, perché da un po' di tempo a questa parte sono gli anticicloni, i cosiddetti russi-siberiani, che fanno fluire dell'aria fredda. Noi invece, con questo tipo di anticiclone, essendo protetti dall'orco alpino, rimarremo un po' sotto vento alle Alpi, rimarremo un po' esenti da queste nevicate. Grazie per ora, colonnello. Frezza, noi stiamo sentendo un profumino eccezionale. Allora, nel frattempo, mi sono esibito. Ho messo i fagioli. Ho messo tutto. Cosa ha messo poi? Ho messo il peperoncino, l'olio col peperoncino, poco. Ah, l'olio col peperoncino. Poco. Poco, poco. Un filo, un filo. Perché se no ti ammazzo. No, non vogliamo morire. Se metto le mie dosi ti ammazzo. Non vogliamo morire. A questo punto noi ci fermiamo, però state con noi, perché in cucina ritorno. Siamo ancora in cucina con Senato Frezza e il colonnello Francesco Mi. Senato, a questo punto, che cosa sta succedendo a questa pasta e fagioli? A questo punto ha spento. Ha spento. Diamo l'ultima mescolata. Aggiungo un po' di olio crudo, ricopro e la facciamo riposare. Facciamo riposare, quindi l'olio crudo, aspettiamo un attimo. Allora, lo aggiungiamo subito. immediatamente. E poi la facciamo riposare. Intanto, invece, colonnello Mi. E poi versiamo. Colonnello Mi. Ora è il suo turno. D'accordo. Allora mi metto a soffriggere un pochettino di il pollo. Le pepite di pollo. Ricordiamo come si chiama la sua ricetta. Sono delle pepite di pollo con delle mandorle. Con delle mandorle. Perfetto. Quindi... abbastanza leggero. Adesso aggiungo... Va bene. Senato, intanto... Senato, intanto io le vorrei chiedere. Ma i lavoratori con contratto a progetto? Per quanto concerne il discorso pensioni? Non esiste. Ah sì. Sì. Invece esiste? È un discorso lungo. È lungo. Il contratto a progetto è una via di mezzo tra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo. Cosa succede? Però il trattamento è come se fossero lavoratori dipendenti ai fini delle varie provvidenze del welfare e dello Stato sociale. È chiaro che il contratto a progetto non è come il contratto a tempo indeterminato. Per cui... Ci sono delle differenze. Nel corso dell'anno non c'è una copertura completa. Però l'ultimo accordo fatto governo sindacati è quell'accordo sul welfare di cui si è tanto discorso quest'estate che dovrebbe diventare legge. Scusi se la interrompo. Colonnello, tutto bene? È bello aspetto, veramente. Cioè, si fa i complimenti da sole, è fantastico. Complimenti da solo, sì, sì, sì. Veramente bene. Stanno uscendo veramente bene queste pepite. Le pepite funzionano. Dopo continuiamo a curiosare. Le pepite vanno. Intanto noi... Dovrebbe diventare legge, dicevo. Sì. Questa qua permette quando ci sono lavori saltuari di coprire figurativamente a carico dell'estate il periodo. Per cui non si perde la parte contributiva che viene versata quando c'è quel contratto. Non si perde il periodo in mezzo. Scusi se la interrompo un'altra volta. Che cose abbiamo messo, Colonnello? Un po' di zenzero. Purtroppo non ho lo zenzero fresco e sono costretto a mettere un po' di zenzero in polvere. E nello stesso. Basta che non ci avvelini. No, no, no. Perché? Ho andato direttamente al supermercato questo zenzero. Non diciamo quale per non fare la pubblicità. Continuiamo con il discorso progetto. Ce la faremo finire? Quindi la pensione ci sarà. Certamente per i giovani non è come noi che non avranno un arco lavorativo completo, pion, eccetera. Quindi i contributi versati non saranno molti ma con questi marchigegni in qualche misura si salveranno anche perché c'è un accordo che la pensione non potrà essere non potrà essere finire al 60% delle ultime retribuzioni. Tutto chiaro. Per voi. Per noi. Questo è un programma. È un programma. Voi lo vedrete. Cioè come un programma a televisione è un programma qualcosa succederà. Però qualche cosa è certo. Colonnello. Ditemi tutto. Presente. Sì, sì, sono sempre presente e dico comandi. Allora, ovviamente in questo nostro programma in cucina parliamo sia della sua professione sia delle ricette. In questo caso Stiamo lavorando in diretta quindi ho spento. Bisogna spegnere un attimo. Che cos'è l'umidità? Bene, l'umidità è una misura del grado della presenza di vapore acque nell'atmosfera e uno degli elementi più difficili da individuare e da misurare perché se mi doveste chiedere qual è la temperatura attualmente in questa stanza noi tutti saremmo in grado di dirvi quanto è. Cioè quanto è? Attualmente sono circa 23 gradi in questa cucina. E lei come fa a stabilirlo? Ma ormai è una lunga esperienza ma da parte di tutti noi non solo da parte mia tutti siamo in grado di percepire la temperatura in maniera molto più facilmente rispetto all'umidità. Però l'umidità fa male in quanto? L'umidità fa male ma fa male a secondo del periodo. Un eccesso di umidità sicuramente provoca stanchezza provoca per coloro che soffrono di meteoropatia o direi che siano appena appena meteorosensibili. Ecco lei ha accennato che cos'è la meteoropatia? Beh la meteoropatia la meteoropatia appunto è quasi non è una vera e propria malattia ma è un gradino leggermente inferiore alla malattia perché dicevo la meteorosensibilità ce l'abbiamo più o meno tutti più o meno tutti diventiamo irascibili quando c'è un vento particolarmente secco forte violento oppure sentiamo anche il temporale magari qualche ora prima sentiamo il temporale in avvicinarsi senz'altro e quindi qua parliamo di meteorosensibilità invece la meteoropatia molte persone soffrono diciamo di artrosi di problemi di cervicale soffrono a seguito di fratture fratture in generale oppure sentono dei sintomi proprio dovuti alla depressione psicologici in questo caso allora in questo momento noi non affrontiamo argomenti tristi no 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 ma infatti non lo dovremmo affrontare però visto che la domanda era stata fatta i depressivi soffrono moltissimo quando l'umidità ha fatto bene a specificare il tutto o dipende anche dalla pressione atmosferica quindi è bassa quindi si sentono un po' depresi abulici senza voglia di fare e anche nervosi e anche nervosi certamente invece in questo momento noi non siamo nervosi continuiamo con la nostra ricetta e siamo a che punto? siamo a buon punto perché dobbiamo riaccendere il fuoco sì adesso dobbiamo riaccendere il fuoco e fare indorare un po' tutto ecco ma parlando di tempo e alimenti è vero che magari alcuni alimenti possono cambiare quando cambia il tempo? beh certo scusi il gioco di parole ma funziona così effettivamente il fattore umidità io chiedevo una volta che mi sono avvicinato ad un bar prendendo il caffè il caffè era veramente imbevibile imbevibile ho detto ma scusi questo caffè qua non è tanto buono e loro mi hanno risposto la colpa è del tempo ed è vero colonnello beh parzialmente è vero perché assorbe notevolmente l'umidità ma probabilmente la colpa è dell'acqua è importante l'acqua bravo a Napoli il caffè è buono perché c'è un tipo di acqua particolare che è proprio di Napoli sì dipende dall'acqua esattamente dipende dall'acqua e anche dal tempo ma anche dall'umidità perché soprattutto quando si lasciano le polvere del caffè nella macchinetta quindi acquistano veramente sono proprio assorbono l'umidità e quindi perdono le loro qualità organolettiche proprio il caffè la polvere del caffè perde l'aroma devono cambiare la carica lui dice ma tanto io non sono un romanista dice sono l'aziale no? no no visto che c'è il derby oggi a questo punto non parliamo di caffè continuiamo colonnello siamo curiosi di scoprire come prosegue la ricetta la ricetta va bene ripeto si tratta semplicemente questo va bene chi lo dice scusi assaggeremo anche il tuo per la verità giusto ha fatto bene le ha fatto una battuta insomma dobbiamo concludere con dobbiamo concludere cioè a proposito dell'umidità diciamo che l'umidità influisce notevolmente su moltissimi cibi tra l'altro anche sulle farine su tutti i prodotti che assorbono per esempio il riso pochi sanno perché nel salino si mette del riso? perché? 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 perché tenete presente tenete presente che il sale soprattutto in prossimità del mare si inumidisce molto rapidamente quindi assorbe l'umidità e si bagna e quindi non esce dal salino e allora cosa si fa? si mette il riso perché è notevolmente più igroscopico di quanto non sia il sale perché il riso nasce dove? nelle risaie dove sono allagate le risaie fantastico abbiamo quindi il riso assorbe maggiormente l'umidità rispetto al sale e allora il sale rimane parzialmente secco e quindi defluisce dalla saliera abbiamo intrecciato professione e ricetta ma con onnello una volta che sarà in pensione una volta arrivato in pensione lei cosa farà? e qui ovviamente ci agganciamo al discorso di senato ai 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 che dolente nuota sta dicendo che siamo già pensionati sta dicendo ma noi siamo pensionati molto attivi io ho molto meno tempo di quando lavoravo come passa lei le sue giornate frezza tra il sindacato comitato provinciale dell'Inps in cucina qualche volta venga da voi qualche volta cioè lo dice come voi oggi non so cosa fare ma vado a espansione mi siedo alle dipendenze di mia moglie e la giornata è pienissima che rapporto ha con sua moglie nel senso già andate d'accordo un ottimo rapporto un ottimo rapporto però in questo momento non c'è dove è andata sua moglie? è andata a trovare il nipotino è vero la scusa è quella? è vero fate voi vi lascio una casa però andate da un nipotino colonnello invece sua moglie? no mia moglie è una brava veramente una brava professionista ed è anche una brava moglie e madre però c'è un fatto curioso colonnello lei molti anni fa ma neanche tanti ha invitato qualche bella ragazza a cena che cosa avete mangiato in quel contesto visto che appunto stiamo parlando di ricette non ricorda ma sinceramente perché come fa sapere cosa ne sa la storia la conosco perché il mangiare era un optional era questa la storia mentre io se mi dovesse capitare come diceva quel tale perché non le è capitato no come diceva quel tale io corro ancora dietro alle donne ah non mi ricordo più perché ah non si ricorda torniamo al nostro discorso in cucina allora prepariamo il tutto meglio è già preparato io direi di dare la precedenza al primo perché prepara il primo senatro il primo è pronto possiamo versarlo eccolo qua ecco qua il fumo esce allora io appoggio il coperchio qua cerco devo cercare un mestolo un mestolo se non c'è il mestolo usiamo il cucchiaio no ha trovato il mestolo molto bene con un po' di fantasia con un po' di fantasia il piatto fa tutto lui è proprio per quante persone è una persona questa porzione vero un piatto singolo questo qua è uno spicchio di porzione allora questo è uno spicchio di persona è veramente fuma ancora ed è fantastico e sarà sicuramente buonissimo speriamo ecco qua e lo appoggiamo in questo un'altra porzione questa qua è un po' è un po' questa è un po' di più è sempre la stessa ma fantastica anche questa e continuiamo di conseguenza vabbè poi chi ne vuole aggiungiamo il resto il peperoncino il peperoncino il peperoncino l'ho messo con l'olio però chi ne vuole chi ne vuole chi ne vuole lo aggiungiamo a parte perché se no perché dalle nostre parti è proprio un classico la cucina deve essere molto speziale forte certo forte allora il suo turno è finito sia d'inverno che d'estate però mettono il peperoncino sia d'inverno che d'estate d'inverno per riscaldarsi d'estate per raffreddare per raffreddare per raffreddare stranamente voi lo sapete che molti popoli per esempio i peruviani o addirittura dei paesi intorno anche gli africani mettono tanto il peperoncino e mangiano il peperoncino per raffreddarsi perché quando diciamo prova una certa sudorazione il peperoncino quindi la sudorazione con un pochettino di vento serve per raffreddare il corpo ma anche l'abbigliamento si mettono quei barracani sono tutti coperti sì perché la temperatura interna è inferiore rispetto a quella esterna perché la temperatura corporea signori è intorno ai 36 gradi 36 gradi e mezzo è vero? e anche qui parliamo sempre di temperature vede come lei gira intorno allora a questo punto il suo piatto è finito è pronto è pronto e dovevo aggiungere ecco se doveva aggiungere è certo che lo deve presentare lo zenzero l'abbiamo ecco sarebbe stato bello mettere un po' di zenzero verde proprio però noi questa volta non l'abbiamo messo non l'abbiamo messo perché abbiamo messo lo zenzero in polvere però è un bellissimo menù ripeto è leggero perché il pollo tutti mi dicono che è una una carne bianca abbastanza leggera i fagioli proprio ad hoc i fagioli che ha preparati no i fagioli no perché sa perché ho detto i fagioli io lo sapevo perché assomigliano sì invece sono mandorle mandorle dorate appunto fritte va bene i fagioli non ci sono ci sono le mandorle e terminiamo bellissimo poi mi sono esibite con la macedonia la macedonia però bisogna ancora metterci ah non è terminata va messo va messa il maraschino ah il maraschino è classico allora io appoggerei prima di combinare e poi c'è il tocco in più da parte mia aggiungo il rum questa è una sua ricetta particolare il fatto di aggiungere il rum ma quanto ne ha messo il maraschino lo giro il rum ne metto di meno vediamo vediamo quanto meno ne mette il rum ne metto di meno se almeno male che dovrà essere di meno vabbè allora a questo punto abbiamo terminato non ci resta altro che abbuffarci mangiare abbuffarci io vi ringrazio siete stati degli ottimi cuochi grazie mille ci vediamo magari la prossima volta con un'altra ricetta grazie a voi se domani avete mal di pancia sapete con cui prenderla telefoniamo grazie un saluto